Il lettore multimediale Screenplay DX HD di iOmega regala una nuova esperienza di intrattenimento digitale. Foto, filmati, video e musica direttamente da Internet sullo schermo di casa vostra, in un brillante formato ad alta definizione a 1080p. Iniziare è facile, è sufficiente utilizzare i cavi video standard o HDMI contenuti nella confezione per collegare l'unità Screenplay DX di iOmega al televisore o al sistema di Home Entertainment, collegare l'adattatore Wi-Fi incluso o un cavo Ethernet standard e utilizzare la tastiera QWERTY del telecomando per una configurazione rapida e semplice. È possibile utilizzare i semplici menu interattivi per accedere tramite un comodo browser integrato ai contenuti web più conosciuti o a qualsiasi pagina web. È quindi possibile accedere e trasmettere contenuti in streaming utilizzando siti per la condivisione di foto, musica e video. Screenplay DX di iOmega supporta i formati audio e video più recenti. Grazie alla certificazione di LNA è possibile inviare contenuti in streaming a qualsiasi televisore o computer di casa vostra. La suite di protezione iOmega in dotazione con Screenplay DX garantisce il backup dei contenuti e la protezione del vostro mondo digitale dai virus. Il lettore multimediale iOmega Screenplay DX HD regala un'esperienza unica in rete e all'interno della libreria digitale. Se si dispone di contenuto salvato su un'unità USB senza la necessità di ulteriore spazio di archiviazione è disponibile l'unità Screenplay TV Link DX di iOmega. Acquistatene uno oggi e scoprite una nuova esperienza di intrattenimento digitale.